Il due Principati purtroppo non è riuscito a salvare la C1 sul campo, ma la franchigia Irpino-Salernitana avrà la possibilità di accedere nuovamente alla categoria attraverso il ripescaggio. Le chance di ricominciare dalla C1 sono veramente tante. Il verdetto del campo è stato quello che noi siamo retrocessi in Serie C2, però appunto come dicevi ci sono buone speranze che nella prossima stagione ci richiaveranno per partecipare di nuovo alla C1. in quanto c'è la partenope Napoli che sta lottando per la Serie B e manca solo una vittoria per raggiungere l'obiettivo. Inoltre la Reiki Rugby che potrebbe retrocedere ha buone speranze per rimanere in Serie B, quindi a questo punto si libererebbe un posto e noi sicuramente saremo quelli con più accrediti per accedere al posto vacante. Anche se c'è il rammarico per non essere riuscito a salvare la categoria sul campo. La partita decisiva è l'ultimo secondo, la stavamo vincendo con tre punti, poi abbiamo proprio all'ultima finita la palla, bastava che uscisse fuori. Una nostra disattenzione è l'unica, purtroppo in quella partita l'abbiamo pagata a caro prezzo e ci ha costretto a salutare la categoria almeno per ora. Il progetto Due Principati che ormai dura da cinque anni ha portato molti benefici, al di là dei due camionati che abbiamo vinto, anche quest'anno vediamo il bicchiere mezzo pieno, in quanto molti ragazzi hanno debuttato in prima squadra. L'obiettivo è ricostruire il settore giovanile. Sicuramente ci proveremo a farlo di nuovo come due principati come già era lo scorso anno, sarà uno dei primi obiettivi perché senza i giovani il rugby non avrà possibilità di crescita. Infine Romeo lancia un appello. Questo ce lo auguriamo, sicuramente gli Sport Days che inizieranno la prima settimana di giugno sarà una vetrina importante in modo che anche le istituzioni capiscano il nostro problema. Quello dei riflettori è un problema che abbiamo da quando è nato il parco perché nel progetto iniziale non erano previsti.